Presentati i risultati di una ricerca sugli immigrati a Napoli e in Campania realizzata nell'ambito del servizio regionale di mediazione culturale. L'analisi condotta col metodo blangiardo di campionamento per centri ha fornito dati importanti. A Napoli gli immigrati residenti sono 47.000, poco meno del 5% della popolazione totale, ben inferiore all'8% della media nazionale. A questi va aggiunta la presenza di circa 22.000 immigrati non residenti. I risultati sono forse un po' diversi da quelli che ci si aspettava. La presenza degli immigrati è sicuramente consistente ed è anche di antica data, ma è forse minore da quello che è la percezione dei cittadini nei confronti della presenza degli immigrati. Noi abbiamo circa il 5% della nostra popolazione che è costituita da stranieri e quindi prevalentemente da immigrati da paesi non economicamente sviluppati. Quindi è una presenza consistente anche di persone che poi si vanno ad inserire nel nostro mercato del lavoro con ruoli anche un po' diversificati, ma comunque situati prevalentemente anche nei servizi. Lo Sri Lanka è il primo paese di provenienza nella misura di un immigrato su quattro. Uno su cinque è ucraino, mentre uno su undici è cinese. Secondo le stime, appena il 3% viene dal Nord Africa, il 7% dall'America Latina. Il 23% degli immigrati ha un figlio nato in Italia. Questi dati ci possono fornire strumenti concreti per riuscire a creare anche una comunità più accogliente e più accogliente significa un'integrazione, un accesso ai servizi e quindi ad un sistema di diritti che è fondamentale per realizzare poi realmente un'integrazione. Un'integrazione che non rappresenta una sovrapposizione di culture, ma anzi un affiancamento e un arricchimento di diverse culture.